24 giugno 2023, messaggio di Nostra Signora Regina della Pace, nella festa di San Giovanni Battista. Cari figli, imitate Giovanni Battista nella sua fede e coraggio. La forza di Dio è con i giusti. Non temete. Camminate per un futuro in cui pochi avranno il coraggio di Giovanni Battista. Molti si tireranno indietro per paura e la verità sarà presente in pochi cuori. Io sono la vostra madre e vi amo. Vengo dal cielo per aiutarvi. Ascoltatemi. Non voglio obbligarvi, ma prendete sul serio i miei appelli. Voi siete del Signore e solamente Lui dovete seguire e servire. Accontessa, o che accontesè? Qualunque cosa accada, rimanete con Gesù. Quando sentite il peso delle difficoltà, chiamate Gesù. Nel silenzio e nella preghiera, potete ascoltare la sua voce. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Grazie per avermi permesso di riunirvi. Grazie per avermi permesso di riunirvi. Grazie per avermi permesso di riunirvi.